Sulla destra, attenzione a Troianiello, ancora Kalil, il destro Ecco Basso, cerca la profondità, attenzione, dentro per Kalil Il pallone filtra, messo ancora al centro, Santoruvo E il Frosinone al 34esimo minuto con Santoruvo Ancora i giallazzurri con Basso, palla sul sinistro, il tiro, la rete Dioldi Basso, il 2 a 0 Fuori guidi, aggancia Kiriazis, ancora il pallone al centro Una rovesciata, di pochissimo a lato Orlando preferisce accentrarsi, poi il taglio su Ferraro Ferraro centralmente, dentro per Caputo, Caputo il tiro e riapre il match Gol realizzato da Caputo